La prima è che Armonia D'Arcumine ha testimoniato a quanto poco ideologica fosse questa rivoluzione nel momento che si è accorta di aver fatto un'operazione di non accordo e ha riconosciuto la necessità di ripetere dalla posizione, quindi non sia niente di ideologico perché altrimenti chiaramente dobbiamo mantenere la posizione, ma di fatto voglia sottolineare un concetto fondamentale che nessun gruppo possiede alle commercie di espressione, che ogni territorio ha il diritto a governare la propria sicurezza. La propria sicurezza passa attraverso il del sindaco, cioè in qualche modo sollecitare le nostre amministrazioni ad avere un rapporto continuativo di informazioni del sindaco e tra chi in questo ritorno vive e mette delle apprezzature, qualsiasi cosa, in qualche modo rende difficile valutare la sicurezza. Quindi da questo discorso della Comunità Comunica abbiamo visto A che la patronanza e la posizione su alcune cose possono sicuramente concordare, B che l'amministrazione ha la sensibilità superiore a quella che anche noi stessi conosceranno perché queste cose sta già facendo. Tutto qua, cioè noi vogliamo, specialmente con questo motivo a poter, ovviamente, perché penso che sia indispensabile sottolineare come ogni persona che vive in un territorio ha il diritto di conoscere i pericoli che nel territorio ci sono e chiedere più garantie di tutela. Non c'è assolutamente nulla, null'altro di questo, non c'è assolutamente nulla giudizio sulla presenza degli americani nel territorio, quindi per questo motivo ne mi sento di dover giudificare questa cosa. Grazie.